Angelo Fabio, a Tolico, a Bovino, la Regione Puglia oggi ha ospitato questa riunione Interreg per promuovere gli itinerari culturali. Qual è l'obiettivo? Questo è un progetto europeo che ha lo scopo di scambiare le buone pratiche, le policy delle varie regioni europee che si stanno occupando di itinerari culturali. Periodicamente ognuna di queste regioni ospita un meeting, questa volta toccava l'Italia e quindi la Regione Puglia ha pensato di organizzare questo meeting nei Monti Dauni a Bovino che è un'occasione ovviamente per confrontarsi e per fare programmazione per le prossime azioni future. Anna Introna, sempre Regione Puglia, perché a Bovino? Perché proprio a Bovino? Abbiamo scelto Bovino perché abbiamo scelto all'inizio del progetto proprio di individuare quest'area interna, l'area interna dei Monti Dauni per provare a promuovere il turismo lento e i cammini in particolare proprio per questi territori che da un punto di vista turistico possono essere valorizzati proponendo un modello alternativo di turismo. E poi perché agli ospiti che vengono dall'Inghilterra, dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Romania stiamo provando a raccontare la varietà del territorio pugliese, quindi le aree interne faremo anche poi un pezzo di percorso fino a Monte Sant'Angelo quindi proveremo a raccontare anche un po' il Gargano loro sono molto interessati ai luoghi, ai principali santuari, ai punti del pellegrinaggio quindi Monte Sant'Angelo e poi Bari per la Basilica di San Nicola poi alcuni di loro continueranno in tour nel resto della Puglia la Puglia anche è più nota magari anche turisticamente. Dottor Attolico, questi sono comuni che quotidianamente lottano per combattere lo spopolamento queste iniziative possono contribuire a arginare questo fenomeno? Senza dubbio sì, i cammini come già è successo in Spagna hanno contribuito a ripopolare aree che hanno la stessa difficoltà perché il turismo lento permette un flusso di persone che reattivano anche una microeconomia persone che quindi vogliono riscoprire i borghi più autentici una certa tradizione no gastronomica è un paesaggio che ovviamente qui è una delle caratteristiche principali quindi quello che stiamo cercando di fare è attraverso i cammini di itinerari culturali promuovere un modello di turismo diverso che quindi possa interessare queste zone e creare un'opportunità e quindi permettere a questi borghi di riprendere una nuova vita